De Cameroun, prima giornata, sesta novella, confonde un valente uomo con un bel detto, la malvagia ipocresia dei religiosi. Emilia, la quale ha presso la fiammetta Sedea, essendo già stato da tutte commendato il valore e il leggiadro gastigamento della Marchesana fatto al re di Francia, come la sua reina piacque, baldanzosamente a dir cominciò, negli oltre sita c'era un morso, dato da un valente uomo secolare, a uno avaro religioso, con un motto non meno da ridere che da commendare. Fu dunque, o care giovani, non è ancora gran tempo, nella nostra città, un frate minore inquisitore dell'eretica pravità, il quale, come che molto si ingegnasse di parer santo e tenero amatore della cristiana fede, siccome tutti fanno, era non meno buono investigatore di chi piena aveva la borsa che di chi scemo della fede sentisse, per la quale sollecitudine per avventura gli venne trovato un buono uomo, assai più ricco di denar che di senno, al quale, non già per difetto di fede, ma semplicemente parlando forse da vino o da soperchia letizia riscaldato, era venuto detto un dia a una sua brigata, se avere un vino si buono che ne berebbe Cristo. Il che, essendo all'inquisitor rapportato, ed egli sentendo che i suoi poteri erano grandi e ben tirata la borsa, cum gladis et fustibus, impetuosissimamente corse a formargli un processo gravissimo addosso, avvisando non di ciò all'eviamento di miscredenza dello inquisito, ma impimento di fiorini della sua mano, ne dovesse procedere come fece. E fatto lo richiedere, lui domandò se vero fosse ciò che contro di lui era stato detto. Il buono uomo rispose del sì e dissegli il modo. Al che l'inquisitore santissimo e divoto di San Giovanni Barbadoro disse Dunque, hai tu fatto Cristo bevitore e vago dei vini solenni, come se egli fosse cinciglione o alcuno altro di voi bevitori ebriachi e tavernieri. E ora, umilmente parlando, voglio dimostrare questa cosa molto esser leggera. Ella non è come ella ti pare. Tu non hai meritato il fuoco, quando noi vogliamo come dobbiamo verso te operare. E con queste e con altre parole assai, col viso dell'arme, quasi costui fosse stato epicuro negante l'eternità dell'anime, gli parlava. E in breve tanto lo spaurì, che il buono uomo per certi mezzani gli fece con una buona quantità della grascia di San Giovanni Boccadoro unirle mani, la quale molto giova alle infermità delle pistilenziosi avarizie dei cherici e specialmente dei frati minori, che denari non osan toccare, a ciò che egli dovesse verso lui misericordiosamente apparare. La quale unzione, siccome molto virtuosa, a vegna che Galieno non ne parli in alcuna parte delle sue medicine, si e tanto adoperò che il fuoco minacciato gli di grazia si permutò in una croce e quasi al passaggio d'oltremare andar dovesse, per far più bella bandiera, gialla gliele pose in sul nero. E oltre a questo, già ricevuti i denari, più giorni appresso di sé il sostenne, per penitenza dandogli che egli ogni mattina dovesse durare una messa in Santa Croce e all'ora del mangiare davanti a lui presentarsi e poi il rimanente del giorno quello che più gli piacesse potesse fare. Il che costui diligentemente facendo avvenne una mattina tra l'altro che gli udì alla messa un evangelio nel quale queste parole si cantavano «Voi riceverete per ognun cento e possederete la vita eterna», le quali esso nella memoria fermamente ritenne. e secondo il comandamento fattogli, a ora di mangiare, davanti all'inquisitor venendo, il trovò a desinare, il quale l'inquisitor domandò se gli avesse la messa udita quella mattina, al quale esso prestamente rispose «Messor sì», a cui l'inquisitor disse «Udi tu in quella cosa n'una della quale tu dubiti o vogliene di mandare?» «Certo», rispose il buono uomo, «di n'una cosa che io dissi dubito, anzi, tutte per fermo le credo vere. Udinne io bene alcuna che m'ha fatto e fa avere di voi e degli altri vostri frati grandissima compassione, pensando al malvagio stato che voi di là nell'altra vita dovrete avere». Disse allora l'inquisitore «E quale fu quella parola che t'ha mosso per questa compassione di noi?» Il buono uomo rispose «Messere, ella fu quella parola dell'Evangelio la qual dice «Voi riceverete per ognun cento». L'inquisitore disse «Questo è vero, ma perché t'ha perciò questa parola commosso?» «Messere, rispose il buono uomo, io ve'l dirò. Poiché io usai qui, ho io ogni di veduto dar qui di fuori a molta povera gente quando una e quando due grandissime caldaie di broda, la quale ha frati di questo convento e a voi si toglie siccome soperchia davanti. perché se per ognuna cento ve ne fiano rendute di là voi ne avrete tanta che voi dentro tutti vi dovrete affogare». Come che gli altri che alla tavola dello inquisitore erano tutti ridessono, l'inquisitore, sentendo trafiggere la loro brodaiola ipocrisia, tutto si turbò e se non fosse che Biasimo portava di quello che fatto avea, un altro processo gli avrebbe addosso fatto perciò che corridevo il motto lui e gli altri poltroni aveva morsi. E per Vizzeria gli comandò che quello che più gli piacesse facesse senza più davanti venigli. E per Vizzeria